Benvenuti alla terribile, agghiacciante Tana dell'Arrore! Entrate se ne avete l'ardore! Scrutate nell'affetita Tana dell'abominevole Mekaton! Si dice che un cuore impavido possa domare il possente Mekaton! Oserete cimentarvi? Sì! 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 Amico, queste cose non c'erano quando ero piccolo! Immagino che ai tuoi tenitori la cosa non sia dispiaciuta! Sembra che ne manchi uno! Non vedo lo scopo di tutto questo! No! Avanti! Vuoi dirmi che non muori dalla voglia di fare un po' di casino con uno di quei Mekaton? Sì! 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 Ahhhhhhh... Ahhhhhhh... Ahhhhhhh! Sì, sì, sì. No! Ho trovato qualcosa. Ma che diavolo? Dov'essere una scherza! Andiamo! Forza! La mia peggiore vacanza in famiglia. Via libera! Eccoli che arrivano! Incomendibile! Oh, merda! Sapevo che sarebbe tronato! Continua a sparare! Abre un barco! Perché? Il lavoro sporco tocca sempre a me! Il coglione che ci ha messo nei casini sei tu! Ma che cazzo? L'uscita è di qua! A ore dodici! Andiamo! No, 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 no. Ah, merda! Spero che ti sia divertito! Guarda un po'! Abbiamo un bel telecomando a distanza! Tannazione! Questa merda è anche meglio di quello che sembra! Fantastico! Andiamo! Il barile è esploso! Andiamo là sopra! Seguimi! Guarda che facce! Scappate! Scappate! Nessuno immaginava che la morte sarebbe giunta per mano di un giocattolo! Faccio saltare tutte in aria! Mi piace! Guarda che facce! Aria a sgombra da questa parte. Proseguiamo. Aria a sgombra da questa parte. Voi qua! Avanti noi! A morte! Aria a sgombra da questa parte. Che blado! Ah, potrei farlo tutti i santi giorni! Allerta! Alla stradere! Ecco fatto! Forza! Ci stanno girando! Attenti ai fianchi! Attacca, cucciolone! Semina la morte tra gli umani! Ragazzi, avete fatto arrabbiare il mio robot! Trevate! È il mio robot preferito! Anche Ishi non era male, ma non era altro tra i tonetti! È un party fantastico! Venite a vedere! Prendete un robot e seminate la morte con me! Mi schiacciate di più per la portata! Prendete un'altra parte con me! Prendete un'altra parte! Prendete un'altra parte! Prendete un'altra parte con me! Finiamolo. Come rubare le caramelle a un adulto? Tutto ok. Usciamo. Oh, cavolo. Quel rumore non mi piace. Ci è stato utile. Sai, avevo pensato di chiamarlo Wiggleton P. Tallylike. Ma non ho fatto in tempo a dirglielo. Comunque, non lo dimenticherò. Guarda, lì in basso. Non erano qui per noi, Gray. Facevano la guardia a questo buco. Forse gli piaceva particolarmente. O forse non gli piace per nulla quello che può uscire. Ne erano parecchi. Deve esserci qualcosa di dannatamente pericoloso lì dentro. Quindi noi entriamo. Ovviamente.